Salve, le diamo il benvenuto nella nostra clinica del relax. Io sono la dottoressa Ferry e lei la dottoressa Priscilla, direttamente dal canale Relax Yourself ASMR. Oggi mi assisterà in questo trigger test al quale lei ha deciso di sottoporsi per valutare la sua percezione degli stimoli sonori e visivi e la sua risposta a questi stimoli. Lei dovrà dirci su una scala da 1 a 10 quale suono le provoca la maggiore sensazione di formicolio e il maggiore rilassamento, quindi per ogni suono potrà attribuire un valore da 1 a 10, dove 1 significa che lei è poco sensibile a questo stimolo, mentre 10 significa che lo è molto. Bene, possiamo iniziare. Dottoressa, direi di iniziare da un follow the light. Va bene, sono d'accordo. Grazie. Questo trigger consiste nell'osservare una luce. Dovrà seguire tutti i movimenti di questa luce. Mi raccomando, si concentri. Parliamo. Sembra che stia rispondendo bene a questo. Ha visto come le palpe pretendevano chiudersi? Sì, 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 infatti. Che ne pensa? Ero sicura, infatti. Sì. Ok. Allora. Direi di provare la candela. Va bene. Allora, questo è un trigger molto particolare. C'è una parte visiva, ma soprattutto una parte sonora, alla quale dovrò fare molta attenzione. Mi raccomando, cerchi di rilassarsi completamente. E poi, le domanderò che numero attribuirà a questo trigger. Pronti? Sì. lo vedo che si sta rilassando in effetti questo attrezzo è tantissimo si concentra sulla fiamma secondo me è un 10 dottoressa penso anch'io adesso vediamo che cosa sia che numero 3 vorrei per un altro questo trigger del fumo ha anche un visual molto interessante molto bello ah, le piace questo? lo trova rilassante allora passiamo al prossimo bene, prego dottoressa che cosa abbiamo sulla lista? direi il tapping va bene allora questo sarà uno stimolo molto tradizionale soprattutto ci interessa sapere se lei prova uno stato di rilassamento oppure un brivido ok? quindi si concentri grazie 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 sente qualcosa? sto cercando infatti di capirlo forse dobbiamo aumentare l'intensità? Sì, non ha molta risposta con questo ritmo Vediamo un po' allora, un ritmo più veloce Molto meglio Sì, decisamente sì Eh, infatti La velocità cambia tutto Sì Alcune persone piace il tapping molto lento Altri invece sono più sensibili al tapping che veloce Bene, quindi abbiamo registrato anche questo Sì, ottimo Cosa possiamo postare adesso? Allora, direi di provare i guanti Anche solito c'è una risposta molto positiva Ai guanti in atto Sì, vediamo Sì, può anche chiudere gli occhi Non c'è problema Molto intenso Fissi E quindi e la dottoressa Priscilla sta anche studiando i suoi movimenti, le sue espressioni facciali sono tutti indici che ci aiuteranno? assolutamente ok, è abbastanza diciamo che è meglio va bene come pensavamo? grazie allora abbiamo il crunchy slime molto particolare vediamo allora questo è un tipo di slime particolarissimo perché fa un suono quasi croccante quindi vediamo un po' come al solito si ricordi che dovrà dirmi il numero un po' un po' un po' un po' un po' che gioco non so un po' una un po' un po' un po' non so si un po' l'antivisivo probabilmente è molto sensibile ai visual forse come stimolo uditivo questo non è molto risolvendimento in realtà che si sente molto poco ma credo che sia molto molto lieve si ma ultimamente lei ha sperimentato una diminuzione di questo effetto ASMR nella visione dei video? è un classico grazie a questo test avremo la possibilità di indirizzarla verso i suoi trigger preferiti e vedrà che tornerà a provare ASMR va bene? ok si si chiaro perfetto cosa abbiamo poi? allora tuttoressa abbiamo i legnetti ah ok siamo quasi giunti alla fine del nostro viaggio i legnetti sono un trigger molto speciale ci sono diverse persone che adorano questo trigger e addirittura vi riferiscono di riuscire a provare il brivido ASMR vediamo se lei è tranquilla quindi quindi non 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 è più sensibile a questo? è vero si vede proprio? e infatti l'avevamo capito? mi fa piacere che questo sia un trigger che non aveva mai sperimentato prima può prenderlo in considerazione insomma per addormentarsi in futuro bene penultimo suono abbiamo il water sound un altro grande classico si può prenderlo ok no 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 dice di amare il trigger della peta che scrive sul fondo bene appunteremo anche questo molto bene quindi la sua risposta? va bene si capisce da qui? va bene allora veniamo all'ultimo l'ultimo trigger che abbiamo pensato per lei per questo test l'ultimo è un fabric sound ok quindi i suoni della stoffa è un colpito che da questo colore così come rosa si io credo che il proprio fisio sia il suo punto temporale è vero è vero vuole provare anche l'esperienza tattile toccando questo? si prego che sensazione le fa? ok 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 e sente anche il brivido quindi ok bene direi che il quadro è abbastanza chiaro ma comunque adesso la dottoressa Priscilla si occuperà di svolgere proprio l'analisi che si è approfondito e poi le daremo il suo risponso allora secondo la mia analisi lei è molto più sensibile ai visual trigger sicuramente per quanto riguarda il tapping invece abbiamo notato che lo preferisce molto più veloce quindi a differenza di altri pazienti non ama magari un ritmo molto letto ecco anche il water sound in realtà ha risposto molto molto bene vero quindi il quadro è abbastanza chiaro sicuramente se lei negli ultimi tempi ha avuto magari difficoltà con alcuni tipi di video smr dovrebbe ricercare quelli dove sono più presenti suoni leggeri o visual trigger insomma dovrebbe cambiare magari un po' il genere che ne dice sicuramente è abbastanza frequente che questo accade infatti ma un cambiamento dovrebbe risolvere la situazione adesso andiamo a stampare la sua scheda quindi e poi le consegneremo il risponso spero che sia stato rilassante arrivederci arrivederci alla prossima adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte è